Lola, brava attrice ma troppo rumorosa. Un'asina ha creato scompiglio a Bruxelles, dove era stata portata per uno spettacolo teatrale in un centro culturale arabo. Il ragliare del quadrupede, che veniva tenuto sul balcone, ha fatto infuriare il vicinato che ha chiamato la polizia. Ci sono però buone notizie per i vicini. La tournée di Lola finisce oggi.